ragazzi ci eravamo lasciati con power la scorsa domenica ovvero domenica 23 quindi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo di nuovo qui per reagire alla page di photoshopare sempre il link in descrizione ragazzi vediamo un po allora come potrebbero photoshopare ad tornavo scelto like c'è va bene tra l'altro con l'immagine di avengers endgame c'erano così tante meme o meglio una legge ma così tanto speravo avessero modificato anche questa cosa tipo e power america vino ma che ok ok che va bene allora poi abbiamo murri e già con questa posa vedo proprio tanto femmini friendly ecco questa poi la vediamo che io l'ho già vista vabbè questa è la tipica meme di spiderman che si guarda ma tu sei me no tu sei me no murri versione 60 anni che guarda il cantiere è una nave si si sapevo giusto per modo di dire loop ok poi c'è il latidale sul divano motorizzato vabbè c'è chi non puoi metterci ma va bene ok amazon potro e lui va da amazon oh mio dio voglio questo kart allora va che non ho mai e la miseria ma cos'è ecco appunto quella dove c'è stato vediamo ah questo è jumpy track si e la miseria è cioè tipo un po' un patto il triplo va bene se non fanno uno la miseria la foccia ci sta un casino ma la foccia ci sta benissimo tritone si chiama tritone ok ah ehm come si chiama ehm mi si chiama non mi viene un nome vabbè non mi ricordo il nome se non so chi è mi mi seguo molto forte poi abbiamo Cristiano Malgioglio si ecco ma che c'è pittura super lavabile no no fedez 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 non c'è scritto vabbè misica è uguale certo un po' meno robusto però ah ah questa ci sta benissimo è uguale non c'entra nulla quella di Fortnite ok Thanos ah ok BM che spoiler BM non vi spiego cos'è che spoiler è una vengersa sotto i post haha più 4 va bene ok asso di briscola ah ma è quello di vabbè ehm ok 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 eh 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 lasciamo stare la prima eh perché eh 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 vabbè comunque sto un po' più venendo travedendo ok ah vabbè quella ci sta quella di prima prima però è messo dal lato sbagliato vabbè no 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 cacca spiterina ok si domicassi va bene io sto leggendo da qua sopra che c'è scritto chi taggare capi quindi ma va bene va bene la scuola là questa qua è perfetta comunque sembra realistica ma perché sembra che tipo stia prendendo il sole stia morendo eh bruciato l'un non ho lasciato like aspettate ok va bene andiamo avanti con l'altra spnlv no spnlv no spn spnlnv ok ci sono riuscite non so quale ma è perfetta vabbè king kong vabbè la faccio uguale ci sta loop no vabbè allora questa cos'è chi è prima di tutto aspettate champagne papi va bene è uguale noi siamo puffi blu eh amiamo i funghi blu ah i blu da blu da blu da blu da credo sia quello il senso ok di cia san andreas cos'è sì credo sia san andreas no aspettate sono i eh guandaire no non mi ricordo pizza vendo vabbè su con la torre eiffel allora hanno ci sono due cose fighissime uno che vabbè la palla che vabbè hanno girato la mano cioè la mano è girata guardate vedete così qua invece è del contrario fighissimo questa era prevedibile cos'è questo c'è il puntino giallo così ho capito che lui è super saiyan ma sì ma questo cosa vabbè surreal power gozilla gozilla version che tra l'altro gozilla nemmeno era uscito ancora visto che era il 17 aprile ma giustamente ma non c'è stormy che dice la scella ok si prega di non toccare la versione nella direzione lui che fa la gab ok allora il buco nero vabbè ok ok grande fratello oh mio dio è identico no oh mio dio oh mio dio oh my god l'occhio di sauron sì sì ok oh k chi sono non c'è scritto chi sono va bene questo non è un bacio è una capucciata in faccia il trenino Thomas tra l'altro questo non è Thomas è un altro capitano America è lui vabbè take big mo smoke back to this house va bene oh mio dio era mi sa mi sa che se lei cade c'è un po' con lo problema un piccolissimo lei com'è arrivata qui va bene spera e basta le pensere e basta la corrente misteriosa e non si placca ragazzi io me ne vado me ne vado ciao ciao